Buongiorno e ben ritrovati, è il 7 dicembre dunque dopo questo weekend di grave, fortissimo maltempo che ha colpito un po' tutta Italia, c'è una vittima al sud, lo sapete, e in ginocchio anche il nord, il nord-est in particolar modo con decine e decine di frane. Il gazzettino titola come l'alluvione del 2010, allagamenti, cento frane, slavine e cortina isolata, questa è la foto simbola, simbolo di un mezzo dei vigili del fuoco travolto, per fortuna era vuoto al momento in cui appunto la furia degli elementi si è scatenata. Ne parleremo questa sera a Ring, credo cominceremo proprio con un approfondimento con Giampaolo Bottacini per fare il quadro di quello che è successo in Veneto. Oggi c'è un po' di tutto intanto sul fronte Covid e poi parleremo anche di Mose che se ne parla poco ma in 48 ore al massimo ha salvato Venezia quattro volte, insomma la città l'asciutto, passano anche le navi, insomma quindi questo è un dato importante per le attività portuali. Abbiamo raggiunto le 60.000 vittime per Covid in Italia, il peggio dicono gli esperti ancora a gennaio e continuano a rimandare in avanti mentre già ci dicono che arriveranno i rinforzi, le forze dell'ordine per controllare i furbetti durante le vacanze. Miozzo del Comitato Tecnico Scientifico sui giornali mi pare ieri dicesse come i furbetti possono invalidare i sacrifici di tutti e quindi già danno la colpa a noi invece di dire ci sono delle regole, vanno rispettate. Queste regole sono per evitare la terza ondata ma già ci danno la colpa perché i furbetti possono invalidare tutto quanto. Il tema è serio, questo lo sappiamo molto bene, tanto che anche Zaia stesso che oggi fa un'intervista all'amico Rico Ferro per La Repubblica che sottolinea ancora una volta come ci sia il 50% di possibilità di morire per quanti arrivano in terapia intensiva in Veneto. Questo è un dato allarmante, anche il direttore Benazzi dice dell'Urs 2 di Treviso come questa sia la seconda ondata ancora peggiore, è sempre così nella storia, lo ricordiamo tutte le volte ma la terza in teoria dovrebbe essere più blanda. Dice Zaia su Repubblica alla domanda di Enrico, Enrico gli chiede ma siamo i numeri 1 per contagi qui in Veneto, come mai abbiamo superato anche la Lombardia? Dice Zaia ma noi facciamo 60.000 tamponi e l'incidenza in realtà positivo su tampone è del 6,93%, dice così appunto Zaia. C'è sul fronte del lavoro un problema enorme che è legato al Covid ovviamente, poi arriviamo a tutto il macello, il governo in bilico, tutte queste cose ovviamente di cui si parla, il mess, il recovery, litigano per il recovery, e poi i grillini, sono due veneti tra l'altro potrebbero votare no, anzi voteranno no, per quanto riguarda il mess, allora il governo rischia di cadere. Sul fronte del lavoro si rischia un milione di posti di lavoro in meno nel 2021, questo perché poi non ci sarà più il blocco dei licenziamenti dal 31 marzo, quindi si rischia ovviamente di avere questo diluvio, quante volte l'abbiamo detto, di licenziati o senza lavoro. Senza gli interventi dello Stato, compreso il blocco, ci sarebbero stati 600.000 posti di lavoro in più, in meno, cioè si sarebbero persi 600.000 posti di lavoro, senza la Cassa Integrazione 700.000, questo dicono oggi sui giornali di parere pubblica. E quindi questi interventi sono stati fondamentali per bloccare. In tutto questo, a proposito dei lavori, il Movimento 5 Stelle chiede di prolungare il contratto degli amici Navigator, che sono 2.700, che non hanno potuto fare nulla di quello che doveva essere il reddito di cittadinanza nella declinazione a terra, cioè la richiesta e la ricerca di posti di lavoro, l'incrocio dei dati. Nulla, 2.700 persone per ora pagate, ma chiaramente senza poter fare quello che si sperava negli obiettivi. Prolungare il contratto di lavoro dei Navigator, che sono 2.700, ve lo ricordo, dall'aprile 2021, scadono, al 31 dicembre 2022. Quindi, almeno, ora stiamo bloccando il licenziamento dei Navigator, diciamo. Il 31 marzo si potrà licenziare, sarà un disastro, tranne i Navigator. Quindi noi non licenzieremo i Navigator, perché c'è l'obiettivo del Movimento 5 Stelle di prolungarne il contratto. Allora, torniamo sul fronte della politica, invece, a un vero macello, perché questa è la settimana fondamentale. Italia Viva, ieri in questi vertici online, si arrabbia, lascia, si disconnettono Maria Elena Boschi e Ettore Rosato, perché arrabbiati, in buona sostanza, hanno letto dei provvedimenti, delle idee del Premier Conte sui giornali, su Repubblica, in quella famosa intervista dell'altro giorno. E quindi non sanno nulla o devono votare in Consiglio dei Ministri un via libera, diciamo, a un percorso di recovery di cui sanno veramente ben poco. E quindi c'è questo strappo e addirittura Renzi usa queste parole, sono meravigliose in intervista, oggi a Repubblica. Conte usa un metodo sprezzante, si fermi, ascolti. Detto da Renzi fa veramente sorridere, ha considerato che cosa è stato lui nel momento in cui era la guida di questo paese. Ma Conte è sprezzante e quindi Italia Viva gli fa capire che ci sono anche loro che non può presentare il piatto già pronto sul recovery fund. Il problema, ovviamente, è che ora la lettura è diventata un'altra. E lo fa intendere molto bene Crippa, oggi mi pare, sul Corriere o su Repubblica, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, la Camera, che dice attenzione, e lo dice anche Di Maio qualche pagina più in là poi su Repubblica, attenzione perché se noi oggi tagliamo le gambe al Premier Conte per una risoluzione, che è un voto il 9 dicembre, che non dice sì usiamo il MES, no non usiamo il MES. È una risoluzione, è un modo per andare a trattare maggiormente in Europa, per dire va bene la modifica che avete fatto attualmente, ma l'importante è che non sia ora da scegliere di utilizzare o meno il MES. Cioè votiamo una risoluzione il 9 dicembre. Se votiamo no, oltre alla brutta figura in Europa, fanno intendere i grillini stessi, perché hanno in seno Alvise Maniero, ex sindaco di Mira, il Veneto, che dice io voto no perché noi siamo sempre stati contrari, quindi voto no perché il MES non va bene, così Raffa Raduzzi, l'altro parlamentare Veneto, poi ci sarebbe Nicola Morra, poi c'è la Barbara Lezzi, c'è questa affronta interna al Movimento 5 Stelle che rischia di mettere in difficoltà il governo. Quindi cosa dicono questi signori? Noi votiamo no e se loro votano no facciamo una figura barbina in Europa. Ma come? Con lo scenario del Recovery Fund. Cioè cosa si stanno dicendo Di Maio, Crippa, Vito Crimi e tutti quelli che sostengono che si debba votare no, nonostante il Movimento 5 Stelle abbia sempre votato contro questa riforma, questo fondo salva stati, perché se no ci tolgono i soldi al Recovery Fund, stanno dicendo. Cioè praticamente rischiamo di perdere 209 miliardi di euro perché facciamo una brutta figura, gli altri ci aspettano alla porta, non vedono l'ora gli altri paesi di prendersi loro, i soldi che danno in quota maggiore all'Italia chissà quando arriveranno, e quindi noi se mettiamo i bastoni tra ruote al governo adesso rischiamo di perdere il MES successivamente. Poi c'è in tutto questo una situazione, una condizione degli amici del centrodestra, quindi Berlusconi, Salvini e Meloni che tornano amici tra loro perché concordano nel no al voto del MES il 9 dicembre e questo rischia di creare per quanto riguarda Forza Italia un isolamento all'interno del Partito Popolare europeo, glielo dice Grunetta, lo dicono altri, a Berlusconi, i quali distinguono molto bene, ancora una volta lo dico anche se ci confondono, che non è un voto al no al MES in totale, quindi Salvini, Meloni e Berlusconi voteranno no il 9 dicembre, ma è un voto a questa riforma e a questo segnale che danno appunto Conte perché le modifiche che sono state fatte non vanno bene, è un macello totale e invece voterebbero sì all'applicazione e all'arrivo dei 37 miliardi, almeno per quanto riguarda Forza Italia. Ma insomma questo è il macello del quale stiamo vivendo in queste ore, ma tranquilli che difficilmente il governo cadrà quando ovviamente è un momento delicato e molti poi cambierebbero gli equilibri, non sarebbero rieletti, non avrebbero più le stesse percentuali e ricordiamoci che noi viviamo con questo Parlamento qui che nel 2018 aveva assegnato il 32% al Movimento 5 Stelle, oggi è cambiato un mondo. Per quanto riguarda l'Abruzzo, un piccolo caso, sceglie il presidente Marsilio di cambiare colore, il governo gli dice no e c'è una diffida, bisogna aspettare gli ultimi dati eventualmente per passare da Rosso ad Arancione. Ci vediamo stasera a Ringa alle 21.15 su Antena 3 sul sito ferdinandovarino.it. Buona giornata.